La sensazione che l'Italia potesse pescare un avversario migliore della Svezia nei sorteggi dei play-off per l'accesso ai mondiali del 2018 in Russia è confermata anche dal team della Nazionale Azzurra, Gabriele Oriali. La mano del destino, ha deciso che incontrassimo la Svezia, dal mio punto di vista sarebbe potuta andare meglio, ma accettiamo il sorteggio, la nostra storia ci impone di non avere paura di nessuno. Posso dirti che la Svezia è una squadra molto forte che in un girone molto difficile è arrivata seconda eliminando l'Olanda e battendo la Francia. Ora speriamo di recuperare qualche infortunato entro novembre, abbiamo quasi un mese a disposizione per preparare al meglio questo delicatissimo doppio scontro e non possiamo assolutamente fallire. Ag. Di Stefano Belli